Torna la transumanza nel segno di una iniziativa voluta ed organizzata da Asbir Molical con la collaborazione primaria della famiglia Colantuono di Frosolone, proprietaria della mantra di 300 capi bovini di razza podolica e marchigiana che seguono la risalita dei trattori dalla Puglia al Molise percorrendo oltre 180 chilometri di vie sterrate, integre, forti della loro bellezza e larghezza. Un programma interessante dal forte richiamo culturale che con la partenza da San Marco in Lamis tocca i territori di tre province Foggia, Campobasso e Disernia giungendo il 28 maggio a Frosolone alla località Acquevive nei pascoli della Montagnola Molisana. Dopo la sosta mattutina sul tratturo Aquila-Foggia a San Polo Civitate la partenza in questo secondo giorno per Santa Croce di Magliano attraversando il territorio di Serra Capriola in provincia di Foggia. Domani si parte prestissimo alle 6 per la località Femmina Morta lungo il tratturo Celano-Foggia attraversando i territori di Bonefro, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia, Pianisi, Ripa Bottoni, Monacilioni. Camminando sul braccio Centocelle e Cortile si prosegue per Campolieto, Matrice, Campobasso e Ripa Rimosani. Domani sera la sosta notturna alle Quercigliore di Ripa Rimosani presso il santuario della Madonna della Neve.